L'autostart aziona i lampeggianti e si va in partenza per questa quarta corsa dal arcoveggio e è proprio il criterium. Arcoveggio prova per cavalli di due anni, vincitori da due a 11.000 euro nella carriera. L'autostart ha raccolto i partecipanti, inizia a prendere velocità e una volta entrata in dirittura si prepara a staccare. Sbaglia, fatto d'amore, nello stesso punto in cui aveva sbagliato un'ora fa. Freeway B cerca di prendere il comando e ci riesce facile su Firefox dei Jovi che è in seconda posizione a precedere Follow Me Love e quindi fuga dal bar. Sono rimasti praticamente in 4 per la vittoria mentre fatto d'amore in segue a un centinaio di metri. I primi 200 in 16 e 3 addirittura. Ho preso la testa in maniera molto facile Freeway B e ora gradua il ritmo a proprio piacimento. Come spesso accade in queste prove di Puledri in cui il numero dei partenti è esiguo, si va piano, 32,7 per i primi 400 metri corsa, ciò vuol dire andare da 1,21,7 al chilometro. Con la porta colori di Biasuzzi interpretata da Marco Stefani che porta a spasso la compagnia. 600 metri in 49,8 si rallenta ulteriormente. Al passaggio davanti alle tribune Firefox di Jovi rimane sempre seconda. Avanti la compagna di allenamento Follow Me Love in coda, fuga dal bar. 1,6 e 3 per i primi 800 metri di corsa. Freeway B gestisce il ritmo, Firefox dei Jovi la segue, Follow Me Love si adegua e così fa anche fuga dal bar e intanto, visto il ritmo blando, fatto d'amore, ha praticamente ripreso il gruppo. 1,22 e 3, il primo chilometro da parte di Freeway B che inizia ad accelerare in progressione per evitare scherzi dei rivali che si proiettano ora all'esterno. Sbaglia però Freeway B di colpo al comando e così Follow Me Love si ritrova a conturre su Firefox dei Jovi che è di nuovo seconda. Largo fuga dal bar a metà della piegata conclusiva. Follow Me Love è al comando, Firefox dei Jovi la segue, quindi fuga dal bar. La retta d'arrivo per Follow Me Love che accelera e cerca di scappare da Firefox dei Jovi. Follow Me Love in vantaggio, Firefox ci prova ma Follow Me Love viene a vincere su Firefox dei Jovi al terzo posto e fuga dal bar. 28,9 la chiusa, 1,18,9 raguaglio cronometrico, la seconda vittoria in carriera in tre uscite per Follow Me Love, una portacolori di Andrea Liberto allenata da Lorenzo Baldi che fa l'accoppiata da allenatore, Andrea Guzzinati in sediolo sposta al momento giusto l'errore di Freeway B, gli concede proprio un bel freeway, un via libera e Follow Me Love si impone in maniera netta a media di 1,18,9 seconda Fairfox dei Jovi, terza fuga dal bar. Grazie. Grazie.